hello witches bentornati sul mio canale io sono martina e oggi andremo a parlare delle novità di catrice per chi non conoscesse catrice catrice è un brand cruelty free e per la maggior parte vegano hanno un sacco di prodotti vegani ed è la sorella maggiore di essence catrice è fantastico perché un brand low cost e infatti molte volte mi chiedete di parlarvi di brand cruelty free ovvero che non testano sugli animali che siano low cost e questo brand io penso sia perfetto insieme ad essence perché hanno tantissime scelte e tantissimi prodotti assolutamente validi che fanno bene al nostro portafoglio volevo ringraziare catrice per aver sponsorizzato questo video e oggi vi mostrerò delle novità primavera estate 2020 di questo brand queste non sono delle first impression io questi prodotti li ho già provati tutti inizio prima di tutto mettendo un burro cacao perché ho le labbra secchissime vado a mettere lamp mint and glow balsamo questo burro cacao è fantastico perché all'interno al mentolo e non so se vedete la differenza adesso le mie labbra si inizieranno a colorare ma come vedete è verde acqua perché intensifica il colore delle nostre labbra in base al ph della pelle donando questo colore rosato alle labbra fantastico e poi all'interno al mentolo quindi pizzica un pochino e va a gonfiare le labbra da proprio un leggero pizzicore sulle labbra e l'olio di canapa all'interno nutre in profondità inizio con le mie labbra belle idratate possiamo passare agli occhi sugli occhi vado a mettere il correttore il correttore è l'instant awake ha una coprenza media ed è stratificabile a me piace molto perché ha l'applicatore in spugna e gli applicatori spugna sono comodissimi quando le applicate già come se le andasse a sfumare purtroppo ci sono solo tre tonalità di questo correttore e infatti questa tonalità è molto chiara per me però è perfetta come base per gli ombretti una volta messo il correttore quindi passiamo agli ombretti come ombretti andrò ad utilizzare questa palette la palette è la pro next generation nudes ed è una palette sui toni rosati come potete vedere vado a prendere il colore un pochino salmone dalla palette e lo vado a mettere nella parte più esterna del mio occhio quindi qui picchietto il colore nella piega del mio occhio in questo modo poi con un altro pennello più piccolino e più di precisione vado a prendere il colore love che è questo colore qui un malva e lo vado a concentrare proprio sulla piega del mio occhio per andarla ad intensificare gli ombretti opachi di questa palette sono facilmente sfumabili e non fanno fallout dopo aver picchiettato questo colore qui vado a prendere il colore classy che è un marroncino freddo e lo vado sempre a picchiettare nella piega dell'occhio in questo modo no vabbè fantastico le bambine sotto hanno deciso che devono suonare il pianoforte e stanno suonando il pianoforte spero non si senta invidia perché sennò voglio fare un look occhi diverso da come li faccio di solito io poi ho ste idee che voglio fare il look poi bisogna vedere se mi vengono queste mie idee geniali sfumo qua per bene ok una volta fatto questo so che sembra un disastro però abbiate fede prendo il correttore di prima e ne metto un bel po sulla mano e con un pennello a lingua di gatto vado a fare una cat crise ok direi di esserci più o meno riuscita sono piena di me stessa come potete vedere questo correttore è pigmentato così tanto da riuscire a fare una bellissima cat crise infatti questo correttore mi piace tantissimo per fare queste cose sugli occhi prima che mi faccia tutte le pieghe vado a mettere bold questo oro qui e lo vado a mettere con le dita adesso che non ho più le unghie me le sono tolte brutalmente perché ovviamente non posso andare dalla ragazza che mi fa le unghie vi devo dire che avere le unghie più corte è utilissimo quando ti trucchi mi mancava truccarmi usando le dita perché soprattutto questi ombretti qui di questa palette sono molto più performanti se usati con le dita piuttosto che con il pennello non so se l'ho detto prima ma questa palettina qui costa 11 euro e 49 e secondo me per il prezzo che ha è davvero fantastica quindi ve la stra stra consiglio passiamo a forse il mio prodotto anzi quasi sicuramente il mio prodotto preferito tra questi qui che vi mostrerò ovvero l'eyeliner il brush ink eyeliner questo eyeliner è un eyeliner waterproof ma è un eyeliner come quelli che piacciono a me che io sono devota agli eyeliner così è un eyeliner in setole esatto non in feltro a 270 setole fatto che abbia le setole e che costi 5 euro e 69 per me è assurda questa cosa perché vi giuro ragazzi questo è il dupe di un sacco di altri eyeliner che costano il doppio o il triplo forse solo da fare l'eyeliner a parte che è super scrivente dalla punta e nero intenso io adesso sto usando solo la punta e scrive benissimo veramente la prima cosa che dovrete comprare quando finirà questa emergenza questo problema è questo eyeliner perché è fantastico io lo adoro non so se vedete quanto è stato facile quanto è preciso quanto riesco ad essere precisa è davvero bellissimo è diventato davvero il mio eyeliner preferito in assoluto sono troppo contenta di questa scoperta il mascara è il lashes to kill è un mascara a forma di clessidra come vedete è fatto così ed è nero intenso io vado a metterlo adesso è andata via anche la laminazione quindi lo potete vedere su ciglia normali questo è il primo strato di mascara sulle ciglia le separa davvero bene questo è l'effetto con il mascara e questo senza e questa è solo una passata io di solito metto sempre due passate anche tre a volte dipende dal mascara gli ombretti i metallici hanno fatto un pochino di fallout ma ci può stare niente di grave ed è questo il motivo per il quale io faccio sempre prima gli occhi e poi la base so che molte persone fanno prima la base e poi gli occhi fatemelo dire non c'è un metodo giusto o un metodo sbagliato ognuno lo fa come si sente come crede come preferisce io faccio prima gli occhi perché ho imparato a truccarmi grazie a mia sorella e lei avendo fatto la scuola di makeup le avevano insegnato di iniziare sempre dagli occhi così se sbagli puoi pulire il viso e non andare a rovinare il lavoro che hai fatto però se a voi piace iniziare dalla base e poi dagli occhi nessuno ve lo vieta non c'è non penso ci sia un giusto sbagliato ognuno fa come crede e nel secondo passaggio torno indietro faccio due versi in modo da coprire tutte le ciglia io sono fermamente convinta che la seconda passata ci voglia con tutti i mascara quando le ciglia si vedono oltre la linea di eyeliner vuol dire che va bene è top vanno bene le ciglia adesso possiamo passare a preparare la base qua ho due prodotti da mostrarvi il primo prodotto è l'hydro plumping serum questo siero rimpolpante con l'1,5 per cento di acido ialuronico ed è un siero molto gelatinoso come potete vedere è denso ed è tipo un effetto gel e va ad idratare senza ungere e si assorbe molto velocemente però non rimane secco anzi lascia proprio sentite proprio la pelle bella rimpolpata bella bella tosta dopo questo siero idratante rimpolpante vado a mettere il primer anti rossori questo qui è il no more red e anti rossori e come potete vedere per me è molto utile perché ho tantissimi rossori sul viso quindi il verde come ben sapete va a contrastare il rosso all'interno all'olio di canapa ha delle proprietà lenitive che attenuano i rossori quindi oltre al colore anche l'olio di canapa aiuta a attenuare questi rossori sul viso tra le novità catrice non c'è fondotinta quindi vado a mettere il fondotinta e ritorno con voi con le altre novità ho messo il fondotinta e adesso passiamo alla cipria la cipria è questa qui la 5 in 1 è una cipria che opacizza e waterproof e sweat proof fixing vuol dire che aggiusta quindi a perfezionare ed ha spf 10 ha uno specchio che io trovo sia utilissimo ed è una cipria compatta e la vado a mettere su tutto il viso così mi fissa tutta la base e me la rende waterproof waterproof non credo si intenda che si può andare in piscina o al mare ma magari tipo se sudate se piove non vi cola il trucco però ovviamente se andate sott'acqua penso che anche questa cipria si sciolga insieme al resto del makeup ultimo prodotto è questo balsamo volumizzante per le labbra anch'esso ha all'interno la menta ma ha anche il peperoncino quindi questo pizzica davvero tanto e a me piace usarlo come gloss le mie labbra prima così credo di essermene mangiato un po per sbaglio adesso ho la lingua che mi pizzica voglio andare a mettere come illuminante questo colore qui vision perché secondo me è bello come illuminante ok questo colore qui è perfetto come illuminante o come punto luce all'interno dell'occhio che bello ha tipo l'effetto bagnato l'ultimo prodotto anzi gli ultimi prodotti che vi mostro sono degli smalti questo qui è uno smalto colore corallo ed è privo di microplastiche all'interno ed è vegano e a lunga durata ed ha un finish glossy e durano fino sette giorni senza top coat l'altro prodotto invece questo è un base coat al 99 per cento naturale e contiene solo tre ingredienti acqua gomma lacca e alcol organico e aiuta a far durare di più lo smalto sulle unghie e a non farle ingiallire ora che non ho più smalto e non posso andare più dalla ragazza che mi fa le unghie è perfetto perché così posso metterli e proteggere le mie unghie comunque questo è il look realizzato oggi con prodotti catrice vi ricordo che catrice è un brand da sempre cruelty free ovvero che non testa assolutamente sugli animali è un sacco un sacco di prodotti vegani fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro prodotto preferito di oggi il mio è assolutamente l'eyeliner questo eyeliner è la svolta del 2020 è l'unica cosa bella finora del 2020 onestamente mi avvicino così vedete da vicino il look occhi è troppo troppo bello mi piace un sacco questo look occhi quello eyeliner è chef kiss ok no il video è finito mi raccomando stay positive and be kind io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video